Mi ha detto che mi resta fuori il ragazzo, io ho detto perché chi c'è stasera? Non ti devi dire il ragone, a me non mi interessa niente, tu vi devi mentre la p***a, tu resta fuori, tu resta fuori, giò facciamo un malafiuga a voi, allora ti dico una cosa, tu ero figli, io ero stasera tua vita, io ero stasera tua vita, io ero stasera tua vita, io figli non ero stasera tua vita, io figli non ero stasera tua figli e mi figli. Ma per il discorso che voi mi avete chiamato per far lavorare questa persona, io mi sono messo a disposizione. Aspetta, non lo faccioру a ascoltare, guarda unhanno, dà un po', vuol dire forse fare assi, ma ve li sei.